Da 1 marzo sarà possibile presentare la domanda per ottenere l'ultimo alloggio. Il bando per l'assegnazione di 164 loculi cimiteriali è stato finalmente lavorato dagli uffici di Palazzo San Francesco. L'avviso è stato reso noto sul siro del Comune di Sulmona, mentre il bando sarà pubblicato dal 1 marzo, giorno in cui si potranno cominciare ad inoltrare le domande. Sono 200 loculi a disposizione del Comune di Sulmona, ma nel bando, che resterà aperto per 30 giorni, ne saranno assegnati solo 164. I restanti saranno utilizzati per le cosiddette morti improvvise. Il progetto dell'amministrazione Casini è quello di realizzare un nuovo loculario, oltre all'edificazione di cappelle gentilizie, a fronte di non poche richieste pervenute. La raccomandazione, spiega l'assessore comunale Paolo Santarelli, è quella di far prevenire le domande a partire dalla dara di apertura del bando. Nei prossimi giorni provvederemo a dare tutte le istruzioni agli utenti. Il bando per l'assegnazione dei loculi è fortemente atteso da due coniugi che tre anni fa avevano depositato la domanda e attendono ancora una risposta, al punto che sono arrivati a pensare che non si può nemmeno morire in pace, quando sarà. La coppia denunciò il caso a Onda Tg e fece riaccendere riflettori sulla richiesta degli ultimi alloggi.